L'analisi tecnica nasce come metodologia empirica alla fine del 1800, quando ovviamente non esisteva il computer, non esistevano i grafici, e nasce come metodologia, non come scienza, non ho mai avuto la pretesa di essere scientifica, perché? Perché non c'erano i prezzi su cui testare queste metodologie. Questa è la cosiddetta metodologia, l'analisi tecnica classica, cioè quella che è nata, la regola del pollicione, dell'operatore di borsa dal fine del 1800, inizio del 1900. Poi diciamo che oggi come oggi, quando i prezzi sono disponibili, pensate a Yahoo Finance, qualsiasi programmatore può andare su Yahoo Finance e con Yahoo e con le appy scaricarsi decine di migliaia di prezzi in tempo reale o ritardato, temporale se giornaliero, nel senso che alla chiusura di borsa ha tutta la borsa giornaliera, aggiornata quel giorno, perché il dato giornaliero vale quando è giornaliero, altrimenti non è un dato giornaliero. Quindi voi pensate a come è cambiato il mondo, e quindi esiste una nuova analisi tecnica di cui sono fautore, a livello definitorio, che è l'analisi tecnica moderna. L'analisi tecnica moderna è quella che nasce, traendo le basi dall'analisi tecnica classica, ma andando a testare scientificamente tutti i pattern dell'analisi tecnica classica, andiamo a capire quelle cose che hanno una valenza, un background statistico e quelle cose invece che sono completamente campate in aria. Quindi quel processo sperimentale che è nato alla fine del 1800, oggi si è completamente arricchito di una parte nuova, che è quella del test, del test statistico. E quindi diciamo delle 100 metodologie dell'analisi tecnica, 90 non funzionano, ma come in qualsiasi approccio empirico che avete alla realtà, cioè non è che quando fanno una medicina tutte le medicine funzionano, ne fanno 100, 90 le buttano via e 10 le mettono in commercio. Stessa cosa con le tecniche di trend. Quindi diciamo siamo in una situazione in cui abbiamo finalmente scavalcato il dilemma della scientificità, e se posso dire da praticante al mercato, mi fanno un po' sorridere oggi tanti paper, tante pubblicazioni anche accademiche, in cui prendono un pezzo dell'analisi tecnica classica ideato cent'anni fa, lo testano e dicono ah non funziona, quindi se non funziona vuol dire che l'analisi tecnica non funziona. Allora le considerazioni sono quelle di prima, nel senso che se io ho un modello che funziona, vigliacco se te lo racconto in modo che tu possa fare una pubblicazione, tu continua a fare il professore e io guadagno i soldi in borsa, questo è l'andazzo. Quindi voglio dire, io non mi stupisco se in una rivista accademica non trovo delle metodologie che fanno soldi, perché le metodologie che fanno soldi sono custodite in una cassaforte all'interno di qualche banca d'affari. Secondo, andare a testare oggi con gli strumenti che abbiamo a disposizione di oggi, tecniche di cento anni fa, non mi sembra la cosa più appropriata, darei quasi per scontato che non funzionano, come se io andassi a testare a livello di medicina i metodi della nonna che funzionavano cent'anni fa, non so, magari cent'anni fa se uno aveva un tumore gli mettevano la cenere in testa, non lo so, adesso non sono esperto di storia della medicina, quindi non ve lo posso dire, però non mi stupirei che dalle pratiche casarecce dei medicamenti fatti nelle campagne dell'Ottocento, oggi come oggi, resisterebbero alla prova di un test. Quindi, mi sembra molto fumoso, è molto facile dire che l'analisi tecnica non funziona perché io non riesco a dimostrare che funzioni o perché io non sono riuscito a guadagnare soldi in borsa, è molto più facile perché si sta dalla parte dei bottoni, è molto più... In realtà ci sono dimostrazioni che voi trovate su internet di chi offre trading system, di chi campa con i trading system, ci sono addirittura dei campionati di trading system di persone che mostrano le contabili, io ho mostrato le contabili per cinque anni dalla mia operatività, adesso tornerò anche a farlo, prima o poi, quando troverò un attimo di tempo. Quindi, vuol dire, il fatto che si dica che l'analisi tecnica non funziona, basandosi su quello che è stato reso disponibile e pubblicato cent'anni fa, ma non lo so, francamente mi pare eccessivamente azzardato. Se posso rivoltare, ovviamente spero che nessun collega si offenda, ma lo dico con sorriso sulle labbra, se posso rivoltare il ragionamento, allora uno potrebbe dire che la finanza aziendale non funziona perché nessun professore di finanza aziendale è miliardario, perché se funzionasse e studiava la finanza aziendale, tutti i professori di finanza aziendale, in base al loro sapere, sarebbero dei miliardari. Non funziona così il gioco, da qualche parte c'è qualche meccanismo che in questo gioco non funziona. Quindi, quando noi ci chiediamo se i mercati sono efficienti o non sono efficienti, per andare alla conclusione, noi dobbiamo sempre andare a vedere che cosa è l'efficienza. Allora, i mercati potrebbero essere efficienti nel breve periodo, potrebbero essere efficienti nel lungo periodo. L'efficienza dipende dal periodo storico, un mercato potrebbe essere efficiente nel 2019 e non efficiente nel 2020. Un mercato potrebbe essere inefficiente perché è liquido, potrebbe essere un mercato che dipende dall'efficienza in base al nostro orizzonte temporale, cioè se io sono un investitore che compro una volta all'anno e mantieno un investimento per tre anni, è probabile che il mercato, pur essendo in media inefficiente, potrebbe correggere questa inefficienza nell'arco di tre anni, quando invece non la potrebbe correggere nell'arco di giorni. Quindi, il concetto di efficienza, io non è che respingo il concetto di efficienza, io trovo che sicuramente, come abbiamo visto dai nostri grafici, operare su Apple sia molto più difficile e operare su un titolo illiquido, perché su un titolo illiquido la diffusione dell'informazione, proprio il concetto di efficienza semiforte, è necessariamente macchinoso, lento, opaco, e quindi se tu sai dove attingere l'informazione, basta molte volte guardare semplicemente i dati di bilancio. Una distorsione dei mercati capitale è quella che deriva dal fatto, per esempio, che io sono un grande fondo di investimento. Sono un grande fondo di investimento che ho per limite statutario, che devo comprare delle azioni in cui posso investire almeno 10 milioni di euro. Voi capite che la fessina informatica, che si è quotata all'AIM, che capitalizza 10 milioni, non è attenzionata dai grandi fondi di investimento, dalla grande assicurazione, dai grandi fondi sovrani. Perché? Perché non la possono comprare, perché se tu hai un limite di 10 milioni, l'azienda ha un flottante di 3 milioni, cosa faccio? Compro tutto il flottante, la faccio saltare in aria, le faccio fare un tale eccesso di domande rispetto all'offerta del mercato, che l'azienda guadagna il 2000% all'arco di 24 ore. Quindi voi capite che è giusto, secondo me, come imprenditore, chiedersi se i prezzi di borsa sono efficienti o non sono efficienti, e di valutare l'efficienza in base al periodo storico. Chiaro che se io ho un'azienda .com e sono nella bolla del 2000, è evidente che nella bolla del 2000 c'è una sopravvalutazione dell'azienda .com, quindi i prezzi non sono efficienti. Quindi riconoscere gli scostamenti dalla realtà è importante per l'imprenditore, perché potrebbe decidere di vendere nell'apice del boom, come potrebbe decidere di comprare un'azienda concorrente quando i prezzi sono completamente crollati. Quindi purtroppo non possiamo fare a meno di questo meccanismo, efficienza forte, semiforte e debole, e di porci questi problemi, anche se non siamo all'interno di un operatore dei mercati finanziari, anche se io non faccio analisi tecnica, anche se io non mi occupo di investimenti finanziari. Cioè sono un imprenditore, che fiducia devo dare a Tomasini che mi dice di guardare mail app per valutare il mio CRM? Sicuramente devo arrivare con la necessaria maturazione, con la preparazione, inevitabilmente questo corso non vi dà, a poter valutare se CRM è iperquotata o valutata correttamente. Cioè la domanda di rispondere, rispondere alla domanda, se in borsa le azioni che fanno il mio mestiere sono iperquotate o sottocotate, è una domanda che l'imprenditore saggio, anche piccolo, deve fare. Perché io devo capire se sto andando, per esempio, vi faccio un esempio banale, la mia attività in quest'anno è completamente esplosa, sono esplosi i contatti, sono esplosi le page view, sono esplosi gli utenti unici. Allora, sono io che sono bravo o il mio settore che sta volando? Perché se il mio settore sta volando e io sono in media col settore, non è che posso andare a letto alla sera contento, io poi che sono particolarmente competitivo. Se il mio settore non sta volando ma sto volando io, beh allora posso stampare una bottiglia di champagne e andare a festeggiare perché sono un bravo imprenditore. Quindi non pensiate che le domande che noi ci siamo posti fino ad ora siano domande che riguardano solo chi si occupa di borsa. Riguardano tutti noi, vi faccio un esempio, le azioni del settore immobiliare sono uscite in questa particolare fase di mercato, oggi come oggi, non domini 2020, da una fase di torpore. Abbiamo visto per esempio Gabetti che ha fatto una volata, una sparata a Riasa, altre società immobiliari, hanno ripreso a correre, io sono basta che io abbia due case, tre case, tre pezzi di muro, due mattoni, questo è un segnale, è un segnale che il settore immobiliare sta ripartendo. Quindi un conto è guardare le quotazioni su immobiliare.it, se io guardo le quotazioni immobiliare su immobiliare ho una valutazione in realtà. Un conto è guardare le statistiche dell'andamento del mercato immobiliare, le quotazioni su immobiliare.it e la borsa, perché la borsa sono gli operatori di borsa. Se l'immobiliare corre in borsa, significa che tutti gli operatori stanno valutando che l'immobiliare avrà un futuro erosio. Io devo vendere in casa? Aspetterò. Se sono sui massimi mi affretterò, ma se la tendenza è partita adesso, ebbè no, io aspetto, aspetto poi l'anno prossimo a vendere, perché mi voglio prendere l'incremento di prezzo del 20-30% sul mio immobile, se il mercato immobiliare sta correndo. Quindi, voi vedete che, è della ragione per cui ho cambiato l'impostazione in questa lezione, parlare di efficienza di mercati, come se voi foste gli operatori di borsa, forse è eccessivo. Parliamo dei mercati finanziari, dell'efficienza dei mercati finanziari, se ci dobbiamo fidare delle informazioni di borsa, come voi foste dei semplici ereditieri, avete ereditato la casa della nonna e la volete vendere, come dei semplici investitori, voi avete trovato sui banchi di informatica e del management l'amore della vostra vita, e voi volete comprarvi casa, la comprate adesso o la comprate da tre anni? Perché se il mercato immobiliare è vicino a un botto e rialzo, vi conviene comprarla adesso, o no, o l'avete comprato da tre anni quando i prezzi sono il 50% in più, e fate un mutuo che lo finite di pagare quando andrete in pensione. E quindi, non è facile come argomento, però è una domanda che noi ci dobbiamo porre, quindi l'efficienza dei mercati è una domanda che ha delle conseguenze molto importanti per chiunque, per il cui siste popolo, per qualsiasi persona che viva nella realtà in maniera consapevole.